E sono un bravo, vado al contrario, sto bene fuori, senza padroni, io sono bravo Ciao a tutti ragazzacci e ragazzacce, ecco qui il vostro Diablotex Oggi 7 settembre, con un unboxing veramente fantastico Sto parlando della special edition di Spider-Man per PS4 Anche perchè è solo su PS4 il gioco E volevo dire, questa qui è veramente una bella edizione Dove sono rimasto particolarmente colpito perchè era prenotabile al media world a 59,99 Anziché 84,99 Quindi ragazzi, mi aspettavo una confezione un po' più piccola Invece, tipo quella di Good of War, che era un po' più piccola, il copanetto Invece ragazzi, una confezione veramente fantastica Cioè, guardate qui che roba Andiamo subito ad aprirla Andiamo subito ad aprirla, vediamo un po' se magari riesco No, ci voglio le brado forbici qui per forza Stando attenti alla confezione, giustamente perchè sono più ignoro su queste cose ragazzi Specialmente su questi cofanetti speciali In particolare su Spider-Man perchè sono un grandissimo fan Ok, questo si può buttare tranquillamente Ed ecco qua ragazzi, il copanetto sperlari Veramente bellissimo Ecco qui Guardate che figata 59,90 Che cofanetto Che cofanetto Andiamo ad aprirlo Vediamo un po' Se riuscirò ad aprirlo No, perchè vado piano ragazzi Perchè non vorrei rompere qualcosa Vi dico la verità Ecco qua, apriamolo Uh, vabbè Come attenzione Contiene spoiler Cioè qui c'è l'avviso che dice Attenzione, contiene spoiler Non aprire prima di aver completato la storia Però questa secondo me è una cosa che riguardava la versione Con l'action figure Non so se magari contiene spoiler anche qui Ma sinceramente non me ne importa nulla Troviamo ragazzi un bellissimo artbook Veramente un bellissimo artbook Forse lo spoiler è anche all'interno dell'artbook Quindi vi farò vedere giusto due o tre paginette Giusto per O poi le faccio vedere tutte Tanto chi se ne frega dello spoiler ragazzi Ecco qui E' un bell'artbook ragazzi C'è poco da scherzare Veramente un bellissimo artbook Devo dire Che questa versione ragazzi 59 e 90 E' fantastica E' veramente Dai faccio vedere solo qualche pagina Perchè Veramente se contiene degli spoiler Anche qui l'artbook A me personalmente non interessa ragazzi Perchè gioco lo stesso Non mi sono mai fatto un problema degli spoiler Però Sulli spoiler scusate Però se magari a qualcuno di voi Può dar fastidio E giustamente Vediamo un po' Vi faccio vedere magari Non Cosi dei personaggi Vi faccio vedere qualcos'altro In modo da Ecco Lo ripeto Poi troviamo una bellissima steelbook All'interno Veramente fatta Veramente bene Eccola qui ragazzi Guardate che bella steelbook Cioè Fantastica Rossa E adesso bisogna aprire anche questa E si Facciamo con le forbici Che esce tutto meglio Va Sempre Con molta attenzione Perchè Giustamente Se poi si graffia la steelbook Mi incazzano un poco Ok Anche questa Questa carta Qui si può buttare Non so dove Ma vabbè E ti vuoi staccare Ma l'immagine gara Mamma mia Che steelbook Ragazzi Mamma mia Che steelbook Beh Qui tutta rossa Giustamente Ecco qui La faccio vedere In tutto il suo splendore E dentro Troviamo un buono sconto Per la carta igienica No Scherzo Scherzo Non c'è Non c'è C'è il classico Foglio illustrativo Dei comandi Con dietro Disconti E il playstation Plus Cioè Indica Vi spiegano Insomma Come funziona Nel playstation plus Ma tanto Ormai lo sappiamo tutti Ragazzi Non è questo il problema E troviamo Un adesivo Del ragno bianco Di spider man Questo è un adesivo Ragazzacci Ecco qui Poi all'interno Giustamente Troviamo Il blu ray Di gioco Sono altrimenti Come si gioca E chi lo sa Allora Calmi calmi Ecco qui il blu ray Poi ho degli insomniac Mi sono sempre fidato Perché Sono un team Con i controcazzi Gli insomniac Diciamolo chiaramente Ecco qui il blu ray Di spider man Si vede anche il mio occhio Guardate Sono vestito così oggi Perché devo uscire Infatti registro Vedesco Quindi l'unboxing Arriverà un po' in ritardo In serata Ecco Perdonatemi Ma ho il mio da fare Allora Questo qui è il blu ray Di spider man Poi qui La steelbook All'interno Guardate che figata E questa è la steelbook Rimettiamo il blu ray dentro Con l'adesivo di spidey Giustamente Chiudiamo E il gioco Vi dico subito Che il gioco Il gioco E poi dentro è così ragazzi Vedete non c'è più nulla Ecco qua Non c'è più nulla dentro Il gioco Allora Vi dico subito Che Nei vostri hard disk Occuperà 45 giga minimo Quindi può anche aumentare Con qualche aggiornamento Perché dovrebbe esserci Anche una patch Al the one Che introduce La modalità foto Se ho capito bene La modalità fotografica Non vorrei dire Una stupidaggine Ma credo di aver capito Molto bene Quindi rimettiamo qui La nostra steelbook Rimettiamo qui L'artbook Ragazzi E poi MediaWorld Mi ha dato anche un codice Per riscattare Dei dlc Attenzione E rimettiamo qui Anche il foglio Illustrativo Che dice Attenzione Contiene Spoiler Rimettiamolo qui Quindi ragazzacci Questo è stato L'unboxing Di spiderman Edizione speciale Credo che Questa qui sia Un'esclusiva MediaWorld Non voglio sbagliare Ma è un'esclusiva MediaWorld Quello che voglio dirvi È che giustamente Il gioco Per chi non l'ha prenotato Adesso lo pagherà 84,90 Ragazzi Quindi Io avendolo prenotato 59,90 Imparate Non vi costa nulla Prenotare un prodotto Se sapete che poi Lo dovete comprare Che vi interessa Quindi Prenotate di sempre Perché Ragazzi 25 euro Di sconto Non è male Non è male Perché una confezione Veramente ben fatta Questa Io infatti La faccio rivedere Veramente Sono contentissimo Detto questo L'unboxing Si conclude qui Volevo dire Una piccola cosa Non porterò La serie di Spiderman Sul canale Perché la portano Cani e porci Per il semplice motivo Che Visto che la portano Un po' tutti Perché sappiamo Che sul commerciale Ci vanno un po' tutti Perché hanno Incassi facili Diciamo Perché le cose Stanno così Non ho mai avuto Peri sulla lingua E non certo Li metterò oggi Peri sulla lingua Anzi Più vado avanti Più peggioro In senso buono E Quindi Per questa motivazione Io non porterò Spiderman Sul canale Perché Il mio canale È nato in un certo modo E deve proseguire In un certo modo Preferisco portare Giochi Un po' più di nicchia Perché secondo me Molti giochi Vengono Messi dietro Un telo Beh È una mia Metafora questa No Vengono messi Dietro un telo Non vengono tanto Pubblicizzati Porto anch'io Qualcosa di commerciale Tipo pezze Altri titoli Però Mantengo sempre La mia E quindi ragazzi Per questo motivo Non porto lo spiderman Non ci rimanete male Ma sto preparando Altre serie Sto registrando Gameplay di serie Già iniziati Che porterò avanti Quindi Ragazzi Vi chiedo scusa Che non porto spiderman Ma purtroppo Quando vedo Tutte queste cose Che lo portano Cane e porci Io Mi distingo Dalla massa Ed evito Però me lo gioco Per fatti miei Perché sono un gran fan Di spiderman Ragazzi Questo è stato l'unboxing Di spiderman Il vostro diabotex Vi saluta Ci sentiremo con i prossimi Unboxing e gameplay Grazie ancora Per il vostro supporto Sul mio canale Mi raccomando State sempre rock E va bene così Ciao Drag e roll Oh, 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 oh